eccolo il piatto preferito oggi è che piatto io c'ho lo spinach tu c'è il mcdonald eh il mcdonald io c'ho lo spinach c'è il mcdonald si mcdonald mangelo merdi perché dai bella a mangiare dai beh ma fermate di occhio tira un po' giusto questo stronzo ti piace no perché ma ancora assaggiato assaggio la assaggio e butta via il piatto io me ne vuoi e tu fai il cascato le minacce no questa salsa 8 che c'è scritto guarda c'è scritto la salsa devil la salsa devil